Altro che asparagi, il piatto tipico di Bassano sono i funghi. E' questo quanto potrebbe pensare ad un primo sguardo poco attento che si affidi alla guida che l'autorevole Touring Club italiano dedica alla Pedemontana Venete ai Colli. Anche sul fronte dell'attrattività enogastronomica insomma, il nostro territorio sembra ancora una volta faticare a promuovere le sue bellezze. La guida in questione è ancora in fase di revisione, è vero, ma è pur sempre stata presentata al BIT di Milano. Questa guida che è in fase di revisione, per cui sono state stampate 100-150 coppie che sono state date in mano ai consorzi turistici, noi ne abbiamo qualche copia e stiamo appunto verificando le informazioni e la coerenza di tutte le informazioni. Sicuramente quello che salta all'occhio è proprio che Bassano, anziché avere sulla parte enogastronomia una bella foto dei classici asparagi, ha la foto dei funghi, ma questo verrà segnalato sicuramente. Forse una delle mancanze ancora del Bassanese è quella di non sapersi promuovere nel modo corretto. Eh, questo è il grosso problema, noi ci stiamo tentando da un po' di tempo e proprio oggi verrà costituita l'Associazione Territori del Brenta ed è il primo passo verso un turismo sostenibile.